Sono Aldo Mucci e vengo da Agrigento, ho 67 anni. Benissimo. E poi? E poi sono qui perché ho scoperto una cosa che non conoscevo prima. Abbracciando o baciando le persone riesco a trasmettere qualcosa di sereno, qualcosa di... Che sei? Serenità. Tranquillità, serenità. Estasi anche se è il caso. Estasi. A volte sì, col bacio sì, ho l'abbraccio. Attenzione, il bacio. Scusi, ma che prove ne ha di tutto ciò? Due anni fa a Parigi, visitando la Torre Eiffel con mia moglie, le ho dato un bacio e... È caduta dalla Torre Eiffel? No. Ma cosa succede? Praticamente è andata un po' in estasi. Mi sono chiesto. Ma è sua moglie. Mi sono chiesto... Dopo quanti anni di matrimonio? Dopo 40 anni di matrimonio ho detto è possibile. Ammazza. Sarà ancora in estasi. Non mi sveglio. No, sono ancora innamorato di mia moglie. L'estasi è un'altra cosa. Sì, però dopo 40 anni di matrimonio ho subito. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. E che ha fatto? Ha dovuto mettere una tendina lì? Che ha fatto? Ha fatto altre prove? Ne ha mandate altre in estasi? Col consenso di sua moglie immagino perché... Ma io faccio un lavoro per cui incontro molte persone e a volte abbracciandoli mi hanno manifestato questa cosa. Ti posso abbracciare? Ma possiamo però... Ma funziona anche con gli uomini? Soprattutto con gli uomini. La ragazza del mio cuore sei, ma baciato non mi posso mai, sempre tra la gente che mi sta... Eh no, non rovinare! No, non rovini tutto, Rudy. Non facciamo baci che il Rudy. Posso abbracciarvi? Non rovinare, devi farlo bene. Vieni, 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 si sta meglio! Ti giuro mi sento meglio! Mi sento meglio! Vieni, fidati! Vieni, ascoltami! Vieni, vieni! Non l'ha fatto però! Vieni, 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 vieni! Prova, non l'ha fatto bene! Prego, posso? Fidati, vieni, si sta meglio! Vieni, si sta meglio! Vieni, vieni, vieni! Sta formicando con Maria! Sta passando un po' più gioco! Stai meglio? Meno male! Sì! Grazie, abbracciato! Guarda la sabbia! Ci vuole! Ci vuole! Sono il suo assistente! Salve! Grazie! Sempre tra la gente che mi sta... Ti sono a supposare! E solo tu vuoi uscire mai con me! Io sono il suo assistente! Sono il suo assistente! Non mi dire più di no! Un momento di bacio! Lui trema però! Lui trema! Ma ditemi come è andata! Allora! Ditemi almeno come è andata! Lei quando dà un bacio trema col corpo! Sì! A me è piaciuto! Sì perché... No, dico dopo! Quando la Ferilli è passata da me! Mi è piaciuto! No, no! Però anche il suo abbraccio era bello! Era... Sentì, grazie! Ha sentito la sua nozione! Te lo giuro! Cosa? Te lo giuro! Smettila, Rudy! Non dire schifezza! Sei l'unico che sta rovinando questo... Una roba... Cosa? Era però ti dico la verità! No, dicevo che... Allora... Io lo spi... Io spiaglierò tu! Spiaglierò! Mi rinfiuto! Ma dai, io mi imbarazzo! Spiaglierò tu! Mi rifiuto! Ovvio, mi rifiuto! Allora, Sabina, com'è andata? Eh, sì, ho notato che trema, ma... Ci siamo abbracciati... Male comunque non fa, ecco... Non so se fa bene, però non è che mi ha fatto male! Già è una cosa, no? C'è gente... Gerry, quando l'hai abbracciato... Sì! Non hai sentito del momento... Che momento? Senti, tu c'hai dei problemi, ma... Noi ce ne siamo accorti già da anni! Però, ma ne basta... Basta rivelarsi, non c'è nessun... Vabbè, però... Signori colleghi, riflettete... In questo mondo che liquida tutto con un sms, una faccina, un sorriso... Trovare il tempo di abbracciare il prossimo... E' molto bello, bravo! Grazie! Bravo! Non è bello? Grazie! Lo dice il pubblico! Eh, no, per l'82%! Ma no, ma un messaggio così bello! Che peccato! Ma lo stesso! Per me vale, per te? Certo, per me vale! No, per me no! È stato simpatico, divertente, però l'estasi è un'altra cosa! Vabbè, una, due no e due sì! Io vado, seguo Jerry, seguo Jerry quello che ha detto, che trovo questo positivo... E quindi va bene, anche per me! Grazie! Grazie! Vado avanti a abbracciare! Grazie, Aldo! L'abbraccio a tutti! Grazie! L'abbraccio a tutti! Arrivederci! Grazie! Molto elegante! Ciao! Molto gentile! Un abbraccio! Tu hai sentito delle vibrazioni? Le vibrazioni, sì, sì! Scusa, quando t'ho abbracciata io? Di più, molto di più! Tu vali, sì! Parliamone dopo! Sì! Sì!